E' stato da poco presentata nella stupenda biblioteca comunale FM23, la fornace di moglie, il programma delle manifestazioni che il coro polifonico Davide Brunori ha messo insieme per festeggiare il suo decennale di attività. Erano presenti il sindaco Giancarlo Carbini che ha sempre seguito l'attività del coro anche come presentatore in alcune occasioni. Ha elogiato questa attività e ha detto che il coro è una delle realtà più importanti del comune di Magliolati. Ha ricordato alcuni eventi che hanno visto il coro protagonista, vero? Sì, il coro è sicuramente una delle realtà non solo associative ma soprattutto musicali, culturali più importanti del nostro comune. Festeggia con successo questi dieci anni di attività e ha partecipato a molte iniziative, soprattutto in ottica di musica spontiniana. L'ultima più importante è quella di aver partecipato insieme alla filarmonica Gasparo e Spontini e la banda Lesina alla Spontini Wind Orchestra cantando delle arie della Vestale lo scorso dicembre con l'augurio di riprobore questo concerto a Parigi il prossimo dicembre. Bene, l'assessore Grizi ha sottolineato nel corso della conferenza stampa come questo sia per Magliolati e per Mogli un momento particolarmente vivace. Tante iniziative che si sovrappongono, ha detto assessore che sfiorano un po' la schizofrenia. Adesso non me la prendete come schizofrenia buona, secondo me è una buonissima realtà che, come ripeto, dimostra una vivacità e una volontà poi soprattutto di andare verso un livello culturale alto, se mi permettete, perché se guardate le programmazioni delle diverse associazioni troverete in ogni festa, in ogni iniziativa troverete sempre cose diverse, cose interessanti, stimolanti. Si è spaziato per ogni genere, per ogni tipo di attività, come dicevo prima, dal gala lirico alla serata folk a incontri veramente che spaziano in tutta quella che è l'arte contemporanea e non. Quindi sono veramente orgoglioso, detto schizofrenico, perché poi si concentrano in un periodo anche ristretto dell'anno, anche se poi per quanto riguarda l'inverno avremo il teatro lo stesso sempre molto pieno e molto attivo. Anche quest'anno faremo la seconda tappa dell'Eurofolk a teatro, dopo la bella iniziativa che è stata in estate, ha avuto un grandissimo successo, quindi abbiamo pensato di replicare anche in inverno. Le associazioni, oltre all'amministrazione, lavorano molto bene e secondo me in una direzione buona. Bene, ringraziamo l'assessore, ricordiamo che l'appuntamento all'ora per la festa del coro sarà 13-14-15 dicembre, 13-14-15 settembre in piazza Kennedy a Moglie con tante iniziative. Per Vallesina TV è tutto.